Cortina D'Ampezzo si avvicina al suo periodo di alta stagione con eventi culturali, iniziative per riscoprire la montagna ed intrattenimento. Così nonostante il periodo sia ancora ricco di restrizioni, i turisti stanno arrivando. La stagione estiva sta andando discretamente bene, siamo nella settimana di ferragosto, quindi la settimana clou per quanto ci riguarda, con una clientela prettamente italiana che normalmente raggiunge la nostra località. E' cambiato un po' tutto il modo di lavorare, le prenotazioni arrivano tutte o gran parte all'ultimo momento, ci sono tante variazioni e quindi noi ci dobbiamo un po' adeguare e lavorare di conseguenza. Gli stranieri? I flussi turistici stranieri non sono certo quelli a cui eravamo abituati nell'epoca pre-Covid, abbiamo alcune presenze straniere. Attesi nuovi flussi per le settimane dopo il 15 di agosto con prenotazioni più lunghe rispetto ad ora. Incertezza maggiore ed alcune disdette arrivano dagli stranieri, soprattutto quegli americani, che solitamente raggiungevano la località ampezzana, ma che questo anno, a causa dell'introduzione del Green Pass, scelgono di rimandare la vacanza. La regina delle Dolomiti si conferma in ogni caso una delle mete preferite per il periodo di agosto, anche per i proprietari di seconde case che se prima dell'epoca Covid lasciavano in gestione l'appartamento alle agenzie e per poterla affittare, ora la tengono e utilizzano per sé.